Questa è una busta con le ciocche di capelli che abbiamo tagliato oggi con chi voleva dimostrare vicinanza e solidarietà con gli uomini e le donne in Iran e la spederemo all'ambasciata della Repubblica iraniana come testimonianza di un eco, questo è il nome di questa statua che dall'Iran arriva fino a Torino e in tutte le città d'Italia perché è una manifestazione nazionale. La statua l'abbiamo coperta con un telo nero e oggi sveleremo la libertà, questo è il senso della manifestazione. In Iran da circa un mese ci sono proteste da quando Masha Amini, una ragazza di 17 anni, è stata prelevata dalla polizia ed è stata restituita alla famiglia morta, uccisa a bastonate, perché è stata prelevata? La statua è stata prelevata perché non indossava correttamente il velo, questo è il senso poi dello svelamento della statua. C'erano dei capelli che fuoriuscivano quindi è stata portata via ed è stata uccisa. Le proteste vanno avanti, ci sono già anche degli scioperi, quindi non sono solo uomini e donne privati cittadini ma cominciano anche i lavoratori ad entrare in sciopero e quindi vogliamo dare sostegno a questo.